Andrea Frazzuoli, rettore di Porta Crucifera, qual è l'emozione del ritorno in piazza qui sulla Lizza con il buratto montato? L'emozione è tantissima, io la vivo tutto l'anno, ma essere qui nella Lizza, sentire questi odori, questi sapori, sono unici le emozioni. Come arriva il quartiere da un punto di vista aggregativo, sociale ed iniziative e dal punto di vista tecnico a questa giostra? A livello aggregativo siamo partiti davvero con una settimana meravigliosa, c'è tranquillità, serenità, c'è tanta presenza, mantenendo tutte quelle che sono le regole, c'è davvero un bellissimo clima. A livello tecnico i ragazzi hanno fatto un grandissimo lavoro insieme al capitano e a tutto lo staff, poi da oggi vedremo i risultati in Lizza.